Questa di Marinella Ti bevi senza il sogno di un amore Ma un re senza corona e senza scorta Busso tre volte un giorno alla tua porta Bianco come la luna, il suo cappello Come l'amore rosso, il suo mantello Tu lo seguisti senza una ragione Come un ragazzo segue un aquilone E c'era il sole, avevi gli occhi belli Benvenute e benvenuti, siamo qui con un'altra bellissima intervista E la protagonista di oggi è Rossana, Rossana Mola Ciao lei, un'attrice, un'attrice, siamo qui a Milano Ciao Rossana, benvenuta Ciao, buonasera, buonasera a tutti e a tutte Allora intanto diciamo che insomma ho appena visto il tuo progetto appunto Che hai portato in scena con le tue colleghe Adesso ce ne parlerai, insomma Federica poi è un'amica che conosco anche bene Federica Fabiani e quindi è appena terminata Diciamo un'edizione che sicuramente è andata sold out anche questa Giusto? Parliamo di giovinette, le calciatrici che sfidarono il duce È vero Rossana? Esatto, parliamo proprio di questo progetto Come dici tu e come anche a noi piace pensarlo È uno spettacolo tratto da un libro scritto da Federica Seneghini e Marco Gianni Che porta lo stesso titolo, quindi è proprio Abbiamo mantenuto lo stesso titolo E ha la regia di Laura Curino L'adattamento drammaturgico di Domenico Ferrari Sul palco ci siamo appunto io, Federica Fabiani e Rita Pelusio Ed è una produzione di Pema Abitata Teatrali e Rara Produzioni Questo lo dico, ci tengo molto a dirlo perché ovviamente dietro un progetto Dietro un lavoro c'è una squadra molto forte Che lavora molto intensamente Quindi dall'ufficio stampa Salutiamo Silvia Salutiamo Silvia, Monica Giacchetta, Alice Verano Insomma, veramente una squadra incredibile Una squadra che appunto sostiene e tiene vivo questo progetto Di cui siamo estremamente contenti Certo, poi tra l'altro è la seconda volta che lo rappresentate Al Teatro della Cooperativa Al Teatro della Cooperativa, sì L'anno scorso, a novembre del 2022, siamo state ospitate dal Teatro della Cooperativa Ed era andato molto bene Quindi con grande gioia anche per un'amicizia che ci lega al Teatro della Cooperativa Ormai da anni, non solo io Centennale forse già Esatto, ormai proprio dall'anno prima, dall'anno della fondazione Poi anche Rita, Pelusio, Federica, Fabiani Ravorano con Renato Sarti e col Teatro della Cooperativa da anni Salutiamo anche Renato Questo ritorno, abbiamo Renato Sarti e tutto il Teatro della Cooperativa E questo ritorno quest'anno è stata una gioia per tutte e tutti noi Perché insomma è stato bello ritornare E poi è andato anche molto bene anche quest'anno Quindi insomma questo ha dato una gioia, una gioia in più a tutte le parti coinvolte Devo dire che in questo momento dove come sai insomma ci sono sempre purtroppo le discussioni Le contraddizioni tra fascismo e antifascismo Quindi oggi tra l'altro è il 12 dicembre, Piazza Fontana Quindi insomma ci vediamo anche in una data molto particolare Quindi che perlomeno noi sentiamo in un certo modo Cosa che invece magari molti milanesi ormai non sentono più da tanto tempo Specialmente io cerco sempre di portare questa voce un po' alle nuove generazioni Perché credo che comunque la memoria debba essere assolutamente coltivata E infatti insomma nel percorso anche di vita personale Ho avuto a che fare come insomma come molti amici sapranno Con il comandante Giovanni Pesce, con Nori Brambilla Pesce Quindi diciamo che questa è una cosa che se tu hai Naturalmente non puoi assolutamente dimenticare Quindi te la porti dietro in tutto quello che fai E quindi ti da una responsabilità In un certo senso anche vero Questo per me è un po' sono d'accordo Perché nel momento in cui entri a contatto con persone Che hanno fatto quello che hanno fatto Con la forza e con la determinazione e con il coraggio Nel momento in cui tu entri a contatto con queste persone Non puoi non portare avanti Diventa una responsabilità e diventa come una staffetta Che prendi e porti avanti Quello che dico sempre anch'io è proprio preso anche una cosa che dico sempre Ho preso in mano la staffetta proprio da Nori e da Giovanni Pesce E infatti tra l'altro l'argomento appunto dello spettacolo giovinette Intanto voi siete assolutamente bravissime E devo dire che insomma si piange in momenti diversi Anche per divertimento Perché veramente fate ridere proprio in un certo momento Che siete talmente coinvolti E lo si vede che vi piace Anche proprio quel palco vi appartiene Vi appartiene la storia naturalmente E poi insomma il fatto che le donne In quel tempo naturalmente parliamo del tempo del ventennio fascista È evidente che insomma solo pensare di poter mettere su Una piccola squadra di calcio Che avrebbe potuto diventare Magari anche una cosa diversa Che poi insomma poi ci racconterai un pochino la trama sicuramente Diciamo che è una cosa che la portiamo anche ai nostri giorni Adesso parliamo tanto ancora di patriarcato Ma se pensiamo a quello che hanno subito le nostre nonne Ai tempi appunto i miei bisnonni alla fine Quindi durante la seconda guerra mondiale Devo dire che in effetti insomma Noi non siamo ancora arrivati a un punto di svolta Da quello che sta succedendo ancora Perché io mi occupo da tanti anni di violenza sulle donne E ogni giorno purtroppo una donna ancora viene uccisa Da marito, compagno, fidanzato, padre, fratello Quindi quello che avete fatto Quello spettacolo che è in scena È un'altra goccia È un'altra goccia ma una goccia molto importante Nel mare verde, la cultura e della mentalità del cambiamento Cosa dici? Sì, sì, anche perché Da proprio l'idea della Allora per ricostruire un pochino Faccio un passo indietro Giusto due parole su qual è la storia Allora siamo nell'anno 1932 Quindi anno decimo dell'era fascista E questo gruppo di ragazze giovanissime Così per caso appassionate di calcio Chi più chi meno Ma comunque un gruppo di giovani ragazze Che seguono il calcio Innamorate dell'Inter Innamorate del Meazza Forza Inter sempre Esatto, vedi no Io ho sempre delle difficoltà Però vabbè, come dice Rita Perché tu non sei interista? Io non sono interista Tra l'altro veramente grande prova di professionalità Infatti, infatti Perché dire forza Inter, forza Meazza Devo dire che Quando sei milanista Tra l'altro milanista Poi scoperta negli anni Dopo la nascita di mio figlio Che non tanto dopo il matrimonio Io ho sposato un milanista Molto, molto Diciamo Guerrito Ma con mio figlio poi non ce l'ho fatta Insomma Ho dovuto 14 e mezzo adesso Il mio ne ha 18 Però è interista anche lui È interista, vedi Il mio è milanista Alla fine ho ceduto Per grande delusione Di mio papà è Juventino Ma insomma alla fine mi ha capita Però Quindi ecco Diciamo Loro hanno questa grandissima passione E hanno questo Grande Questo grande entusiasmo Che poi è l'entusiasmo Delle giovani Delle persone Dei ragazzi e delle ragazze E quindi partono Così per caso Per questa avventura Decidono di fondare Questa squadra di calcio E da subito Sono Mostrano una determinazione Una tenacia incredibili Quindi capiscono Che la squadra E loro iniziano a giocare Cominciano ad allenarsi Cominciano a capire Che possono Già salire il primo scalino Quindi cominciano a scrivere I giornali Delle lettere Cominciano a cercare Altre ragazzi Dicono Scriviamo una lettera ai giornali Così Dove scriviamo Chiediamo alle ragazze Di venire a giocare Quindi la squadra Da dieci Dodici Che erano Diventa Trenta Quaranta E più ragazze E chiaramente Più loro iniziano A crederci E questo è il mio punto Più loro iniziano A fare sul serio E più Il regime Comincia A capire Che c'è qualcosa Che non va Quindi Fino a che lo fanno Così Va bene Quando loro invece Cominciano proprio Tra l'altro Come spesso diciamo Loro utilizzano Un po' gli stessi Metodi del regime Quindi usano Una sorta di propaganda Quindi iniziano A scrivere i giornali Poi a un certo punto Vengono costrette A sottoporsi A una visita ginecologica Perché Qual era lo scopo Del regime Quello di dimostrare Che il calcio Quindi le pallonate Quindi Diciamo Tutte le dinamiche Del calcio Potessero Compromettere La capacità Riproduttiva Della 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 Delle donne Quindi si sottopongono A qualsiasi cosa Accettano Qualsiasi cosa Con una forza Una determinazione Che da una parte È propria Forse Delle Delle donne Questo mi piace Diciamo Credo Perché io Mi ci rivedo No? E rivedo Le mie compagne Le mie colleghe Amiche Dall'altra Anche Però Non è da dimenticare Il fatto Che loro Sono giovani Sono Quasi lo fanno Pensando Che Che problema C'è Lo facciamo Lo vogliamo fare Facciamolo Che è proprio Un po' Quella Leggerezza Dei giovani E delle giovinette E quindi Insomma Chiaramente Questo loro Insistere Questa loro tenacia Sconvolge Il regime Perché Perché È troppo Vanno oltre Sono troppo Determinate Sono troppo Forti Stanno Scardinando No? Quanto meno Rischiano Di scardinare Troppe Diciamo Solidità Chiamiamole Comunque succede Tuttora Quando le donne Si mettono E arrivano A certi livelli Non riescono Ancora a bucare Il famoso Tetto di cristallo Siamo ancora In queste Condizioni Assolutamente Certo Non è È proprio Quella cosa Di dire Ti abbiamo fatto Arrivare fino qua Però da qua in poi Grazie No? E quindi No? Tutto E quindi A un certo punto Adesso senza Voler spoilerare Uso questo termine Che ormai è entrato Però Non si può fare E alla fine Il regime è più forte Perché il regime Impone Perché il regime Ha una forza Che conosciamo Molto bene E quindi Non si ha La forza Una forza Altrettanto Capace Di Perché ovviamente Le modalità Le conosciamo E sappiamo Perché comunque La repressione Alla fine Era fisica Naturalmente Ma era anche Molto psicologica E molto culturale Quindi è evidente Che non potevano Uscire le donne Calciatrici No? Specialmente Poi negli anni Trenta Comunque In quel periodo Era considerato Assolutamente Le donne Erano solo Fattrici Quindi dovevano fare Solo bambini Quindi era impossibile Infatti Proprio Proprio La cosa interessante È anche il fatto Che il regime Non dice Non potete fare Il calcio Perché è uno sport Tanto è vero Che le vuole Reindirizzare Ad altri sport Certo Quindi Era È proprio L'idea Del calcio È proprio L'idea del calcio Come sport Maschile Punto Cioè parte E di nuovo Questo stereotipo C'è ancora Purtroppo Oggi Sì 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 Ancora Ancora Guarda Recentemente Ho avuto Una conversazione Che mi ha colpito Perché Io dicevo Insomma Comunque Il calcio femminile Adesso Io poi ho avuto Modo Tramite Giovinetta Abbiamo avuto Anche la fortuna Di incontrare Spesso squadre Di ragazzi Che vengono A vedere Lo spettacolo Con le quali Abbiamo un modo Di confrontarci Ma la cosa La cosa incredibile È che anche Persone Che Non so come dire Adesso Non vorrei essere Non usare i termini Sbagliati Però persone Di uomini Che Potrebbero essere culturalmente avanzati Diciamo Assolutamente Ma proprio poi Lo vedi No Scevri Da qualunque Pregiudizio Insomma Lo vedi Sul calcio Ma guarda Tuttora Sentiamo Dei commenti Pazzeschi Lo senti Che tranquillamente Fanno commenti Come No ma Quella è una donna Che cavolo Intanto Si dice Che le donne Non conoscono Cioè Diciamo Le posizioni Anche strategiche In campo Quindi non sanno Riconoscere Naturalmente Qual è il fallo Quando si deve fare Un calcio Il gioco Poi è la battuta Il gioco È mito È mito Della non conoscenza Del fuorigioco E chissà perché Non potremmo capire Questa cosa Cioè Boh Vabbè Comunque Si sentono ancora Questi commenti Purtroppo Anche in Conduttori O commentatori Che sembrano Anche giovani O comunque persone Che non Non diresti Appunto mai No Che No ma infatti È proprio quello È proprio la sorpresa Anche di chi Poi da dove Arrivano questi commenti No perché davvero A volte Lo dico proprio Sinceramente Ma non te l'aspetti Perché È proprio È proprio una cosa Legata Al gioco del calcio E lì Anche Era estremamente Legata al gioco Del calcio E punto Quindi Tanto è vero Che poi Alcune di loro Diventano Giocano A pallacanestro Cioè Quindi Vengono in qualche modo No La corsa Nello spettacolo Proprio Si dice questo No Non vogliono Farvi giocare a calcio Però tu saresti Molto brava Nella corsa Lei sarebbe molto brava In un altro Quindi È proprio Quella cosa Del calcio Che ancora Come dicevi tu Rimane ancora oggi Perché Ma voi l'avete fatto Solo teatro della cooperativa Lo spettacolo O lo avete fatto No 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 Noi sta girando tanto Per mostrare Perché Sì sì Sta girando tanto Abbiamo Già fatto L'anno scorso Tante repliche Dopo Diciamo Nella prima parte Del 2023 Quest'anno Quest'anno a novembre del 2023 Prima di tornare al teatro della cooperativa Abbiamo girato ancora E riprenderemo da fine gennaio Fino Con dei piccoli Delle piccole pause Fino a metà marzo Siamo ancora in tournée Insomma Siamo contente Perché è molto Molto richiesto Infatti Questa è una cosa Assolutamente positiva Poi Richiama un pubblico Poi eterogeneo Nel senso che Ci sono anche tanti giovani Che vengono A seguirvi Quindi L'unità Era pieno Il teatro Questo È anche l'aspetto Bello Perché Appunto È uno spettacolo Che Sia grazie all'adattamento Sia alla storia Di per sé No Quindi la storia Un aspetto Diciamo Parla del calcio Ma parla Dei diritti Parla Di Del diritto A portare avanti No A voler Sostenere i propri diritti Quindi Insomma È un discorso Nel discorso C'è tutto L'aspetto politico Quindi la memoria storica C'è l'aspetto politico Che Attraverso il mio personaggio No Marta Boccalini Che è una delle sorelle Boccalini Giovanna La più grande Poi Loro sono originarie di Lodi Lei poi Diventa Entrerà nel partito comunista Poi diventa Taffetta Poi diventa Lei Insomma Ha una carriera politica Importante E loro La storia di Marta Boccalini Che è il mio personaggio Che porta Nello spettacolo Il racconto Della sua famiglia Quindi Sia di questo zio Che poi non era Un vero zio Ma un amico di famiglia Molto stretto Che era stato Ettore Archinti Che era stato E poi c'è questa storia Parallela Del marito Di Giovanna Della sorella Più grande Che anche lui Ad un certo punto Viene arrestato Mandato al Al confino Alle isole Tremiti Peraltro Per una questione Non del tutto Riconducibile A lui Quindi C'è anche questo Racconto Per cui Lui Suo fratello Faceva parte Di un gruppo Loro volevano Trasmettere Discorsi contro Il regime Per il primo Di maggio E il fratello Nasconde la radio A casa Del marito Di Giovanna Arrivano Le camicie nere E Giuseppe Il marito Di Giovanna Viene mandato Al confino Al confino Quindi È come Io Sempre Questo 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 discorso Parallelo Lo vedo Un po' Come la minaccia Su quello Che le ragazze Su quello Che le giovinette Hanno rischiato No Eh Questa Meravigliosa Questo accostamento Secondo me Meraviglioso No Sia nel libro Che poi Nella drammaturgia Di Domenico Ferrari È forte Perché È come se Loro No Loro si muovono Come dicevamo Prima In questa Loro Così Ingenuità No Questo In questo Loro modo Di Di fare In quanto Giuseppe E questa Questa storia Di Giuseppe Invece È Da Da Proprio L'idea Di qual È Quest'ombra Nera No Che Incombe Su di Loro Dalla Dalla quale Loro Si salvano Semplicemente Perché A un certo Punto Non c'è più Possibilità Di andare avanti Perché Gli tolgono Tutto E quindi Loro Sempre Nella loro Giovinezza Sempre Perché Sono così Giovani A un certo Punto Beh La storia Si spegne Si spegne Così Senza Nessuna Possibilità Di Neanche Di dire Ma possiamo Fare qualcosa No A un certo Punto Si spegne E Questo è un Racconto Parallelo Di Giuseppe Per me È fortissimo Per La differenza Dei due Piani E di Quello Che loro Hanno Sfiorato Perché Se a un certo Punto Qualcuno Avesse Deciso Che loro Stavano Andando Troppo Oltre E Loro Avessero Tentato Qualcos'altro Chissà Chissà Che cosa Adesso È vero E quindi È un po' No Un po' Questa Questa Realtà Nel Non Del Quindi Poi Diciamo La squadra Che si era Formata Comunque Le ragazze Che avevano Fatto Questo Progetto Appunto Di squadra Che cosa Hanno Fatto Nella vita Avete Saputo Allora Sì 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 Perché Poi Allora Marta Boccalini Che è il mio Personaggio La Mediana Diciamo Delle Sorelle Lei Rimane Diventa Era Salcistico No 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 Niente Nel campo Del calcio Niente E tra l'altro Anche questo è un aspetto Molto bello Interessante Perché Marco Gianni Che ha scritto Il saggio Che si trova Nel libro Alla fine Del libro C'è prima Il romanzo Di Federica Seneghini Il libro Lo possiamo Trovare In libreria Libro In libreria Edizioni Solferino Lo dico Perché Non è per pubblicità Ma è un libro Si deve fare È tratto da lì Lo spettacolo Lo diciamo Nel saggio Con questo saggio Marco Poi Lavorando anche Con una storica Di Lodi Che Alice Vergani Con la quale Lui ha collaborato Quindi poi Tutta la ricerca Perché poi La bellezza Della ricerca La ricerca Certo Quindi Cosa è successo Che loro hanno trovato Delle informazioni Soprattutto le sorelle Boccalini Ettore Archinti Ovviamente Lodi Era diciamo Proprio La fonte Prima No Di tutto Poi cosa è successo Che tanti Tante Tante altre Fotografie Tanto altro Materiale È arrivato Con L'uscita Del libro E dello spettacolo A un certo punto Hanno cominciato a venire A vedere lo spettacolo Parenti Nipoti Ma io mi ricordo Che c'era quella Che giocava Mia nonna Cioè No E quindi arrivano Spesso con Del materiale E raccontando Anche Più volte Che questa Piccola storia No Perché per loro È durata Meno di un anno Quindi Questo è importante Da dire Inizia nel Nel 1932 Ma entro 1933 Esatto Quindi Dura Meno di un anno E quindi È nella vita Di queste donne Una storia Probabilmente Per alcune Come tante altre Abbiamo provato A giocare a calcio Abbiamo provato A fare la squadra Di calcio E Piano piano Alcuni dicono Ma noi non sapevamo Neanche Non sapevamo neanche Che la nonna Che E quindi Cominciano a trovare Fotografie Cominciano a trovare Lettere Cominciano E quindi Questa Questa ricerca È È come se fosse Appena iniziata No Perché È viva Sta avvenendo adesso Veramente Eravamo Non ricordo dove Ed è arrivato Un signore Mi dice Io sono un parente Delle Boccalini Mi sono trasferito Ho letto di questo Spettacolo Ho visto questo Spettacolo Sono venuta a vedere Lo spettacolo E quindi Contatto con Marco Gianni Con la storica di Lodi Insomma È una storia che Promette di crescere Allergasse ancora di più Quindi Allergasse ancora di più E quindi Anche questo è un aspetto Interessante Anche Tu prima dicevi Un pubblico Di giovani E di Tutte le età E questo è anche Bello Secondo me Da lui Lo raccontiamo Anche ai ragazzi Proprio perché È sempre quella Cosa sulla responsabilità Di portare avanti Cioè ci sono tante storie Che ancora non si fanno Perché dicevamo Ad esempio Il racconto di Piazza Fontana Per dire no Ci siamo oggi Il 12 dicembre Purtroppo Tanti ragazzi Non sanno neanche Che cosa vuol dire No Effettivamente Quindi Quando gli si chiede Ma voi sapete Cos'è successo Nel 69 Sapete che Cos'è stata La strage di Piazza Fontana Non ti sanno rispondere Perché comunque La storia Si è fermata un po' Alla seconda guerra mondiale Nelle scuole Purtroppo E quindi Hai ragione Hai ragione Perché Si ferma Molto prima Forse i romani Diciamo In tante scuole Ma prima Perché Io poi guarda Con tutta La fatica Che la scuola fa Questo è Uno degli aspetti Ovviamente Con il quale Mi sono scontrata Avendo un figlio Di 14 anni Che adesso È in prima liceo E questo Mi scuote Sempre Questo aspetto Di questa Questa storia Che sembra Sempre essere Lontana No Adesso Arriveremo Arriveremo A fare Adesso Non è ancora Lo faremo l'anno prossimo Parleremo l'anno prossimo Si arriva Si arriva a malapena Allo scoppio Della seconda guerra mondiale Quindi Si taglia Si taglia Una fetta Per esempio La resistenza Tutto il discorso Che cosa è stata La resistenza Perché poi E' questo Che manca Questo paese E' anche vero Che chi l'ha vissuta Ha cominciato A raccontarla Non presto Perché molti Non avevano Questa forza Si sa benissimo Insomma Ti dicevo Prima di fare La nostra intervista Del fatto che ho lavorato Tanti anni Con Giovanni Pesce Il comandante partigiano E Nori Brambilla Pesce Anche loro Hanno cominciato A portare La loro esperienza Non subito Diciamo Al termine Della seconda guerra mondiale Anzi Sono andati avanti Anche un bel 20-30 anni Prima di raccontare Quello che è accaduto Ad esempio A Bolzano Per quello che riguarda Nori Pesce Quindi Devo dire Che in molti Hanno avuto Anche un po' Delle Delle remore A raccontarsi Adesso noi sappiamo Di Insomma La senatrice Segre Che comunque Sono un po' di anni Che è entrata Ormai nel contesto E quindi Sappiamo che lei Racconta Però non è stato facile Assolutamente Neanche per lei Negli anni 80-90 Cioè raccontare Infatti È da poco Che cominciano Effettivamente A entrare Nel merito Di questa storia Nelle scuole In effetti Manca questo pezzo C'è questo pezzo Che manca Perché è vero Perché io ho fatto Le medie E le superiori Negli anni 80 Così Quindi Io non ricordo Se non Proprio degli accenni Però Diciamo Fino a lì È giustificabile Se vogliamo In qualche modo È che oggi Non lo è più Oggi Non è più Impossibile Pensare Che ogni ciclo scolastico Debba ricominciare Dalla prestoria E riprendere E quindi Si arriva sempre A non parlare Raccontare Veramente E poi Lasciamo perdere Tutto ciò Che è stato Che sono stati Gli anni di piombo Tutto ciò Che è stato Gli anni Ma guarda Se noi abbiamo La scala Abbiamo fatto Cioè Settimana scorsa Comunque Ero lì a vedere Insomma Tutto quello Che accadeva fuori Naturalmente Rispetto alla scala Quell'urlo Viva l'Italia Antifascista È sembrato Un attacco A chissà chi Quando è Un urlo Che è Della costituzione Italiana Quindi dove È una cosa normale Dovrebbe essere Normale dirlo No? E poi La scala È sempre stata Cioè Diciamo Un luogo Dove I loggionisti Hanno sempre Urlato qualcosa Quindi non Era un luogo Non idoneo All'urlo No? Però Ci sono ancora Dei nostri politici Purtroppo Che Diciamo Che l'antifascismo Non lo dichiarano Ancora apertamente Questo è Una grande magagna Del nostro paese Perché poi Gli altri paesi Ad esempio La Francia Non è Non è così Assolutamente Non subisce E poi Credo anche Che l'altro problema Che poi arriva Nelle scuole Ovviamente È il fatto Che si No? Si Spesso Non si ha Quasi il coraggio Di parlare Di resistenza Di parlare Quasi a confonderlo Con la politica No? Quindi Di guerra civile Non era una guerra civile Eh ragazzi Non era una guerra civile Certo E chiama resistenza È forte No? Perché comunque Comunque davvero Poi sai Quando poi vai dai ragazzi Dalle ragazze Diciamo Ma voi sapete Siete liberi Per Ma se non glielo racconti Ma non devi raccontare Nella storia Di quello che è stato Devi raccontare Trovano degli insegnanti Ogni tanto Trovi l'insegnante Quello buono Quello bravo L'insegnante brava Che ti racconta Però non si può stare A pensare Che ci sia Quel povero insegnante Quella povera insegnante Che sia l'unica Che rappresenta Effettivamente il racconto Della storia Per questo ci fa piacere Che sia pieno di ragazzi E tra l'altro Abbiamo fatto tante Anche tante scolastiche Eh Ci chiedono scolastiche E devo dire Che ci sono insegnanti Che evidentemente Questa necessità Ce l'hanno La riconoscono E abbiamo avuto Proprio dei pubblici Un pubblico bello Pieno Per chiudere la nostra Bellissima conversazione Starei delle ore Veramente Intervistarti Lo rifaremo Assolutamente Lo rifaremo Eh Ho visto che ci sono stati Anche degli incontri Eh Al termine Delle Delle rappresentazioni Sì Bellissimi Uno più bello Dell'altro Guarda Devo dire L'abbiamo fatto L'anno scorso Abbiamo Riproposto Quest'anno E abbiamo avuto Degli incontri Guarda Belli 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 Perché Nel contesto Di quello Che No Che noi Raccontiamo Quindi Una Lo sport E non solo Ma il sociale Il fatto di Che cosa vuol dire Portare lo sport Nelle periferie Cosa vuol dire Lo sport Abbiamo parlato Con Con Eraclis Gymnasium Che è questa palestra Milano In Viale Padova Di box Che ha Crea un contesto Bellissimo Di Molto bello Molto bella Con ASD Ring of Life Anche loro Fanno attività Con le realtà Fragili Quindi Attività Sportive Di aggregazione Abbiamo parlato Con Giovanna Borrella Mister Joe Che è Per la scuola Le bimbe Nel pallone Che è questa scuola Sempre in zona Viale Padova Lei ha iniziato Questo progetto Tantissimi anni fa Abbiamo parlato Con Morena Tartagni Paola Piacentini Morena Tartagni Campionessa Corridora Ciclista Ecco Questo Rientra un po' Nel discorso Del Del progetto Che ti dicevo Prima Sono degli incontri Veramente Veramente Forti E Necessari Perché Sono delle realtà Che Lavorano Per esempio Quelle delle palestre L'ASD Ring of Life Sono delle realtà Che lavorano Sul territorio Rispondendo A un'esigenza Del territorio Quindi Le periferie Quindi Una città Che cambia Una città Che non è Non è più La Milano No Di Diciamo La Milano Così Invece È una città Insomma Ma è una città Ricca di cambiamenti Ricca di persone No Che vogliono fare Che comunque Vogliono portare Una città Una città In cui spesso È difficile No Poi fare Perché Tutto Composta Tutto diventa E quindi Sono veramente Sentirli parlare Ti dà proprio L'idea Che C'è questo Movimento Continuo No Di persone Che non Dimenticano Degli altri Di persone Come sta per scadere Il tempo E poi comunque Ci risentiamo Sicuramente Intanto E veramente Avremo modo Di sentirci ancora E Naturalmente Insomma Lo spettacolo È veramente Da vedere Cioè Ragazzi e ragazzi Andate a vedere Sicuramente Lo spettacolo Perché Ne vale Veramente la pena Ma non soltanto I ragazzi e i ragazzi Ma anche gli adulti Che devono comunque Ricordare Tutti E quindi Per terminare La nostra intervista Quindi Che cosa Possiamo dire No Visto che Abbiamo parlato Tanto di Insomma Di futuro Di nuove generazioni Di cultura Di Milano Che comunque È cambiata Però In alcuni casi Diciamo che Ha bisogno Ancora un po' Di input Specialmente Nella memoria Che cosa Possiamo dire Secondo te Alle nuove generazioni Ma anche A chi Ha bisogno Appunto Anche di Venire a vedere Degli spettacoli Di questo tipo Che sono Veramente Fanno bene No Fanno bene Allo spirito E fanno bene Anche la nostra Storia Tra l'altro Guarda Io Intanto direi Che le nuove generazioni Vanno ascoltate Prima di tutto E Questo Lo dico Anche proprio A seguito Del Femminicidio Di Giulia Chechettin Che è stato Diciamo Un Campanello Molto Forte No È stato E questo Anche Proprio Alla voce Della sorella Di Giulia Che Ha lanciato Un messaggio Un messaggio Che voleva Consapevole Con una Consapevolezza Con una Forza No E ritorniamo Di nuovo Alle Giovinette No Il collegamento È inevitabile No Quindi Proprio Ha una Necessità Un'urgenza E Insomma Non sono l'unica Ovviamente Se ne è parlato Tanto Però mi ha colpito Molto Come Si è stato Manipolato Questo suo Modo Di E Per me La prima Cosa È stata Proprio Quella Di pensare Caspita Abbiamo Dei Dei Giovani E delle Giovani Che Così Consapevoli Così Attenti Che portano avanti Una resistenza Loro Perché Anche questo È un altro Discorso È chiaro Che noi Come adulti Dobbiamo Portare avanti E raccontare Loro E per quello Prima dicevo La resistenza Va raccontata In quanto Proprio Nella Nella sua Forma In quello Che è stato In quello Che è costato Perché loro Hanno bisogno Di sapere Quella storia Per capire Che questi Stimoli Che loro Hanno Queste urgenze Che loro Hanno Di portare Avanti Le loro Le loro Necessità Le loro Quindi La questione Del genere Il clima Tutto questo Che per loro È Il presente E il futuro Rendere Consapevoli Le ragazze Che I ragazzi Che se ci sono Questi diritti Acquisiti È un attimo Perderli Infatti Un attimo Perderli Un uccidio È proprio Quello Nel senso Che Sembra quasi Diventato Una cosa Normale Per me Non è normale Che ogni tre giorni Una donna Viene uccisa Dal marito O dal fidanzato Cioè io Non posso Neanche immaginarlo Forse perché Noi siamo Cresciuti appunto Con la normalità Che era altra Nel senso Mio padre Non si è mai degnato Di Sgridare mia madre O addirittura Manco mai Pensare di mettere Le mani addosso Quindi Per me È normale Quello Di vivere In una coppia Per cui Non esiste Quel problema Ma i ragazzi E dei ragazzi Adesso E questo Lo vediamo Anche nel mondo Comunque della musica Perché io Poi ho a che fare Con un diciottenne Quindi Diciamo che ci sono Anche dei momenti In cui dici Ma come fai Ascoltare questa musica Cioè che Con le parole Che denigrano In questo modo Le donne Cioè Perché Perché devi Abituarti a questa cosa Cioè non puoi dire A me non piace Questo messaggio Quindi E anche questo Cioè il fatto di invitare Le donne Le ragazze A reagire A dire No io non posso Essere trattate In questo modo Quindi è Un cambio culturale Credo che passi Proprio attraverso La consapevolezza No? Cioè deve Deve veramente Deve veramente Come dire Diventare Per loro Deve diventare Qualcosa Che loro Riconoscono Perché Questo Staccare No? Il racconto Cioè portare La memoria storica Se non la declini A oggi Se non capisci Se non fai capire Che antifascismo Oggi È È Anche Altro Cioè Non è solo Non è che se diciamo La parola fascismo Dobbiamo tornare Al ventennio fascista E si ferma lì Dobbiamo capire Che Il fascismo Di oggi È declinato In altre No? In altri modi E E anche E quindi capire Che cosa è per loro Il fascismo No? Che cosa è per loro E quindi Quello che mi è dispiaciuto Di Di Della reazione Di tanti e tante Perché Poi Proprio anche le donne Anche le donne Tante donne Sì Come dire No? Questo Questo modo di parlare Questo modo di vestirsi Questo modo di dire Ma Stiamo di fronte A A A Una generazione Che di cose da dire Ne ha E quindi Se noi aggiungiamo A quello Diamo Diamo loro La possibilità Di scoprire Per esempio Attraverso Uno spettacolo teatrale Perché L'altro aspetto Della 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 memoria storica E anche che Noi abbiamo avuto La fortuna Di conoscere persone Come Norina Bambilla Come Giovanni Pesce Come Stellina Vecchio Ti dicevo Io ho avuto la fortuna Attraverso il teatro Della cooperativa Di entrare A contatto Con Con Delle donne Degli uomini Che mi hanno raccontato L'esperienza Vissuta Queste persone Ora non ci sono più E allora Anche Anche lì È importante Trovare degli altri modi Per arrivare Ai giovani Anche per questo Appunto Che noi abbiamo Anche un'altra Consapevolezza Nel senso Appunto Aver conosciuto Un certo tipo Di persone Che ci hanno raccontato Le loro esperienze Poi Conosciute anche Personalmente Quindi effettivamente È diverso Il messaggio Però devo dire Che tutto questo Come dicevamo Deve essere raccolto Da una staffetta Le staffette Adesso siamo noi Comunque sono poi Le nuove generazioni Cioè il fatto Della presa anche Di coscienza Di una Sorella Di una vittima Di femminicidio Che dice Quelle cose Il giorno dopo Che hanno trovato Il corpo della sorella Cioè Deve solo dire Che Ma caspita Ma che forte Questa ragazza Che messaggio Che riesce a dare Nonostante Abbia avuto Questo dolore Immenso E noi E noi Dobbiamo Metterci dietro Di loro A sostegno A sostegno Perché E questa è la cosa Che veramente Mi colpisce Ci lamentiamo Sempre Del fatto Che Ah Questi ragazzi No Il bamboccioni Tutte queste definizioni Che ci piace Tanto Quando poi abbiamo Una risposta così Quando poi Quando poi ci troviamo Di fronte A una consapevolezza Di questo tipo Quando ci troviamo Di fronte A centinaia Migliaia Di ragazzi Che marciano Che scendono In piazza Perché hanno Consapevolezza Di che cosa Sta succedendo Al pianeta Di Immediatamente Andiamo Sì però No I ragazzi La cosa assurda No Il fatto che Lei abbia parlato Tra l'altro Anche molto bene E finalmente Cioè Devo dire che Poi ognuno Reagisce al dolore In un modo diverso Logicamente Ci sono delle persone Che si chiudono Piangono Ma giustamente Insomma Tutto rispettabilissimo Però lei appunto Ha avuto anche la forza Di utilizzare Un linguaggio Anche appunto Di giovane ragazza Consapevole E che ha parlato In italiano Parliamoci chiaro Cioè finalmente Ha detto delle cose Che sono comprensibili Dai ragazzi E non soltanto Dagli adulti E ci siamo invece Trovati con gente Che dice ecco Questa interviene In tv Perché vuole Fare politica Cioè a me Questa è una cosa Che mi ha scomporto Anche a me Anche a me tantissimo Perché è una contraddizione È talmente evidente Ed è proprio Un annullamento Delle potenzialità Che invece ci sono Che abbiamo Attraverso di loro E veramente Mi fa male Perché mi fa proprio pensare Che è quella Quella resistenza Dal divano No? Cioè quella cosa Di dire Ah vabbè Ma io Il papà Che invita Ai maschi Cioè lui si è rivolto Ai maschi Cari maschi Cioè reagiamo E diciamo Ti amo Alle nostre Alle mogli Comunque Tra l'altro ha detto Anche un'altra cosa Giusta Che non si deve dire Mia tua Perché non c'è Il possesso Quindi sta Cambiando Nel linguaggio Di un papà Che appena Cioè Ha avuto La tragedia E invece Gli hanno dato Contro anche a lui No? Invece anche lì Si sono Sprecati Su questo Non ho Cioè Diciamo che A parte che i social Io poi Insomma Insegnando anche Comunicazione Devo dire che mi trovo Spesso anche rispetto A questi argomenti Sui social Ci sono veramente Di quelle cose Che è permesso A tutti fare i fantasmi No? Vengono chiamati Lioni la tastiera Però Maggioranza Sono persone Che non ci mettono La faccia Quando dicono Queste cose Perché poi se Ne vai a prendere Giustamente Adesso lui Il papà Di Giulia Sta cercando Anche di prenderli Il portale In tribunale Perché su certe cose Non si discute Finalmente Cioè Reagiamo In questo modo Anche Anche questo No? Anche questo È sempre Che No? Noi diciamo Sempre Bisognerebbe fare qualcosa Bisognerebbe fare qualcosa Poi quando qualcuno Fa qualcosa Rimaniamo spiazzati Dal fatto No? E diciamo In televisione Tutti i giorni Vuoi far politica Saluta Porta il caffè I giornalisti Ma va bene Ma pover Cioè Eh ma è questo È proprio E questo è Secondo me È proprio Il timore Di smuovere Troppo No? Quindi Se poi smuovi Troppo Poi lo devi gestire Poi devi stare Dietro No? Con qualcosa Le giovinette Che volevano giocare A calcio Stessa cosa E loro cosa hanno fatto? Hanno smosso E sono state Dietro a tutta Quella cosa Hanno fatto una fatica Veramente Adesso poi noi Scherziamo sempre Sul fatto Che sul palco Fidiamo lo spettacolo E siamo distrutte No? Fisicamente E fisicamente E lavorate anche tanto Dal punto di vista fisico Però se ci pensi È tutto quello Che loro Il susseguirsi Dei fatti È così Diciamo Intenso No? Loro Non si sono fermate Veramente davanti a nulla Tra l'altro Ecco Lì Per esempio Viene anche raccontato Allora c'è il personaggio Di Federica Fabiani Che è di famiglia fascista Il mio personaggio Marta Boccalini Invece appunto Come dicevo prima È famiglia Diciamo comunque Antifascista Fortemente E anche In una piccola Diciamo citazione Diciamo anche Che la madre Dice a loro Voi non dovete avere paura Di niente No? Dice fate attenzione Perché Il pericolo c'è Però Anche qui Una figura adulta Che si pone A A sostegno Del Di una Di una Della libertà Della libertà Senza girarci Troppo intorno Comunque Era assolutamente Complicatissimo Per le donne Dire una cosa del genere Perché Specialmente le mamme Degli anni venti Assolutamente Non erano come Quelle di adesso Naturalmente Come 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 mentalità Quindi come possibilità Anche di Però con una Una coscienza Con una coscienza Politica No? Con una Una coscienza sociale E politica Così forte Da dire Io ho paura Per voi Ho paura Di quello che può Succedervi Ho paura Di quali potrebbero Essere le conseguenze Però La prima cosa È la vostra libertà Voi dovete essere Libere Di fare Quello che volete fare E questo deve essere Come genitori No? Che tu Tante volte No? Ci troviamo di fronte A A A Delle situazioni In cui Sarebbe più semplice Dire Ma no dai Ma stai a casa No? Fai Non Non Cos'è La manifestazione La cosa No non puoi No? E cosa fai Però dici Alla fine degli anni Settanta Che comunque Avevo cominciato Le superiori Nel Sette Quindi Puoi immaginare In quel periodo Cosa c'era Mi ricordo Il giorno Del ritrovamento Di Aldomoro I miei Amma è venuta A prendermi A scuola Perché sapeva Che io poi Andavo La manifestazione No tu non ci vai Cioè no io ci vado E poi sono andata Comunque Quindi In effetti Era un periodo Abbastanza particolare Pure quello No? Però la coscienza Come dice La consapevolezza Dei nostri genitori Che ci hanno comunque Portato su questa strada C'era E quindi noi siamo Così per quello Poi alla fine Quindi È proprio quello Il discorso E quindi questo è appunto Tenere presenti I diritti No? Poi sempre Cioè che devono andare Veramente oltre La difesa dei diritti Deve andare oltre È stato così Per la resistenza Vedi ritorniamo Poi sempre È stato così Per le giovinette È stato così Negli anni settanta È stato così È così Ogni giorno Ogni giorno Perché è proprio Veramente dietro l'angolo Il rischio di perderli Come dicevi Prima tu E devi capirne il valore Per poterli difendere Quindi Consapevolezza Per me È veramente Importante È importante Che loro sappiano Che dove No? Che cosa rischiano Ma anche Appunto Quanta forza hanno Invece Per poter Per potersi Proteggere Difendere Giungere E andare avanti E andare avanti Affinché Hanno tanto da insegnarci Per rispondere La tua domanda I ragazzi Le ragazze Il nostro Comunicino Di passare a loro Quello che No? Quello che In cui crediamo Quello che conosciamo Quello che sappiamo Quello che abbiamo imparato Però La fiducia Nei loro confronti E sostegno È indispensabile In questo momento Il futuro è loro È loro Devono capire Quanto è importante Quindi Bisogna solo Sostenerli Tra l'altro Con questo spettacolo Voi fate già Questo tipo Di discorso Perché comunque L'arte Poi anche questo La possibilità Di portare Dei messaggi In questo modo Quindi Diciamo che Tutto quello Che accade Anche nel mondo Diciamo Della cultura Generale Poi prende Gli spunti Da quello che Poi è la storia Alla fine In questo caso Che viene rappresentata Quindi Diciamo Ancora complimenti Per il vostro Meraviglioso spettacolo Quindi poi Vi potranno vedere In altre situazioni Dicevi che Da gennaio Comunque prosegue La tournée Da gennaio Veneto Andiamo proprio Un po' in giro Veneto Poi saremo A Genova Quindi insomma Bello Bello Andiamo 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 Portiamolo in giro Siamo felici Fate le gomienette Ovunque In tutta Italia Va bene Grazie Grazie Esatto Dove ci voglio Grazie Grazie Ciao Grazie mille Grazie Crepi Crepi Merda Merda Come si dice Merda 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 Assolutamente Merda 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 Ciao Grazie Grazie mille